Tutto cominciò da qui E nuova sfida perché a 25.000 like faremo la salto mortale challenge Salto mortale Salto mortale E quindi salto mortale challenge 8 concorrenti di cui 6 neri, una bianca e un bianco Chi sarei io? Un istruttore ma soprattutto 3 giudici super specializzati in questa disciplina Per vincere bisognerà superare 3 step mortali fino ad arrivare alla finale Il primo che riesce ad effettuare un salto mortale completo vince il video e diventa il king dei salti mortali di Youtube Italia E allora cominciamo col primo step Impariamo la dinamica della rotazione Partiamo dalla base della base, le capriole Ti vado in basso, appoggi i palli, testa dentro, giro 1, 2, 3 Direi già Isac e signori Ma guardali Oh il famoso buco nero Fatelo uno si e uno no Se no affondate Non male, rendiamo sui palli Dai, dai, dai Dai No, no, non ci siamo Signor giudice io lo eliminerei Signori giudici Lui, avete visto come salta Dovete votare se mantenerlo in vita in questo video o eliminarlo Allora, signor giudice numero 1 Eliminarlo Eliminarlo Ok Ne rimangono due Due Bambino razziste Giudice numero 2 Devi decidere se eliminarlo o dargli un'altra possibilità Vengo dall'Africa giudice Vengo dall'Africa Un'altra possibilità Adesso siamo nelle mani del giudice numero 3 Giudice numero 3 Giudice, vengo dall'Africa Dai Vengo dall'Africa giudice numero 3 Eliminato E' il cammino Fuori Isak Passano invece il turno tutti gli altri Allora, passiamo alla difficoltà superiore Abbiamo fatto il capriola da terra Alziamo il livello, letteralmente Ci sopra e leviamo E quello che dobbiamo arrivare a fare è una mezza capriola da te Dimostrazione Testa in dentro, braccio avanti La fa troppo facile Non vale, la fa troppo facile Per fortuna Tiger non ce la farà e verrà eliminato E fuori un altro nero L'unica cosa buona è che hai una maglia bianca Senti, vi devo fare vedere E facci 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 vedere l'abitura di merda Fatti vedere Il che è alzato è iniziato a fare così Sembrava come un tifido Dopo il bianco va il nero Vai 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 l'altro fratello di Samuel Ok ok Uno, due, tre Fate vedere a questi ragazzoni qua come ci fanno È mia figlia È mia figlia Vai Mamadou per i neri vediamo se riuscirà a passare il turno Bravo Senegal Voi siete scemi da legare Vi prego passate due salti come Dio comanda Vai nero cromato per i neri Attenzione la bianchetta Gnabry ce la fa Certo che ce la fa Giudici venite su adesso dovete giudicare chi eliminare Tra tutti noi ne dovete eliminare due quelli che secondo voi sono stati due peggiori Ne devi votare due e mi devi dire anche perché Perché quello con la maglia gialla Perché ti è tutto fatto malissimo Perché ti è stato eliminato tutti i neri? Se siamo un bambino razzista Troppo da eliminare Tiger Perché Tiger non si è buttato quindi ha eliminato Tiger Guarda senza buttarti non puoi rischiare di buttarti male Andiamo col prossimo step Penultimo step Sono rimasti in cinque i due fratelli di Samuel, la bianca, Mamadou e io naturalmente I migliori due andranno in finale Allora sfida netta perché non vogliamo più vedere chi non è capace Il giudizio vi sarà dato su questo tentativo Una chance per giocarsi il posto in finale Un errore e si va a casa Andiamo a guardare l'esecuzione Per passare lo step bisogna atterrare in piedi Non vogliamo tirarsi in buca in piedi Rimbalzo Quando mi sento pronto Ok questa è l'aspettativa Ragazzi guardate anche voi come si fa Non fate la casa La casa atterrata in piedi Per favore Vai Guarda spaghetti Io dico che era molto buono Prima di giudicare fate vedere qualcosa di meglio Io sono passato Passato Fratello di Sam Arrivo io Sessione Io dico tutto fumo e niente a rosso Bocciato Vai 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 Ragazzi so che sembrano uguali Ma sono due persone diverse Tocca a bless Sessione Eliminato Il resto a casa A casa Tu stai calmo Prima donna in finale su Pirlasvu Direttamente dal Mozambico Signor e signori Mozambico Apposta attenzione Ma cos'è A me è piaciuta A me è piaciuta A letto La ragazza è eliminata Vediamo se mi raggiungerà o meno Mamadou sei tu Mamadou Pirlasvu Era bello Era bello Noi lo famigliamo Finale allora Mamadou in finale Siamo in due Signori e signori Il momento della finale Tu non corromperi i giudici In finale saremo io E mamadou Quasi troppa maggioranza di neri Ma ci penserò io Ad abbassargli la cresta Signori giudici Potrei avere la responsabilità Di scegliere il vincitore Di questo video Quanto? Solo uno Solo uno Allora coach Cosa dobbiamo fare Per vincere questo video? Andremo a eseguire Un salto mortale completo Base di rimbalzo Base di salto Base di atterraggio Chi atterra di sedere è eliminato Chi atterra in piedi Vincia la sfida Buona sfortuna Non ti da la mano Perché non sa cos'è la fortuna È bravo e basta Ma meglio Perché la sua una mano sporca Non gliela voglio dare Senti che ha detto Senti che ha detto Vabbè No no basta Salta È caduto ai piedi È caduto No 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 questo non è regolare I piedi hanno I piedi hanno I piedi continuano a saltare Non è vero Ma cosa Peggio di Papà mia Giù dici Era solo riscaldamento questo Dove devi fare Perché nessuno è capito Vabbè Non è acqua Non è acqua Prima di domani bro Giù dici Giù dici Vai mamma Mamma dubbio tu Tirà fuori tutto quello che hai imparato Da questo video Mamma dove vai? Ecco dove va Deve continuare a saltare E' rimasto in piedi E' rimasto in piedi Non si può uscire Ma cos'è Non deve arrivare in piedi là Deve arrivare in piedi là Nel trampolino Tranquilli che ci penso io Tranquilli che nel trampolino Allora Quei che diranno Gravi Come te dicono i giudici E la giudice Neanche io posso Voi siete i capi Vado vado Guarda come si fa Guarda E di un imparo Vabbè Di un imparo Giudicito Quale salto vi è piaciuto di più I giudici sono corrosi Basta così Chi ha vinto? Chi ha vinto Ragazzi Basta così I giudici hanno ragione su tutto Sono il king Del salto mortale Di Youtube Italia Allora ragazzi Il mio trofeo Si è deciso che era lui Me lo porterò a casa Grazie a tutti Di essere arrivati fin qui Mi raccomando signori Questa hyperspace Questa struttura non c'è solo a Bologna C'è anche a Milano Qui vi invitiamo tutti ad andare ragazzi E lanciamo anche a voi questa sfida Ovvero di imparare il salto mortale Mandateci dei video su Instagram Taggate la pagina hyperspace Taggate pirla su E vediamo quanti di voi Impareranno a fare il salto mortale Io vado a godermi il mio premio ragazzi Bravo Bravissimo Bravo 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 Un milione su Youtube Già lo sai Già lo sai Se con noi metti il pollice su Siamo i pirla svu Siamo i pirla svu Un milione su Youtube Siamo i pirla svu Ahah Siamo i pirla svu Siamo i pirla svu